Se per cortesia, se per favore mi ascoltate, se... Sedetevi! Non so chi siete, ma sedetevi! Va bene? Oh, grazie. Eeeh... Ma tu chi sei? Rodolfo Alfonso Raffaello Pierfilibert Guglielmi di Valentina D'Antonguella. Ma forse i loro signori mi conosceranno come Rodolfo Valentino. Eeeh... Bravi! Questo è lo spirito che vuoi! E' un bellissimo scherzo, bellissimo! Scherzo fantastico! Perché è uno scherzo, no? Giovane, Valentino, qua, ce l'abbiamo già, va bene? E siamo pure in ritardo. E chi sarebbe oggi? You? Mi? 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 You? Beh... Ehi, ho preso tre mesi aspettative non pagate io per mettere su questo spettacolo. Rodolfo Valentino, sono io. Niente grida di guerra ho chiamata alle armi, nulla mi angoscia, niente che muoia, eccetto... E voglia... E voglia... Regra bai, dal verso. Vediamo, vediamo... Ai rooftopNoil理 Cap, pensa apre l'estate a fare l'okingenata che sulle error, E vuole... ...